A bocca ad una falsa mail con una falsa notifica esattoriale che gli prosiuga il conto di 3600 euro. A rimanere incastrato nella rete del phishing è un pensionato nisseno sessantenne che nei giorni scorsi ha ricevuto una mail che sembrava essere stata inviata dalla propria banca. Comunicazioni della banca era l'oggetto della mail in cui veniva informato di essere stato sanzionato amministrativamente perché destinatario di una cartella esattoriale. Per questo motivo infatti l'uomo è stato invitato a cliccare in una fasulla area clienti della banca e quindi sollecitato di inserire le proprie credenziali comprese di codice PIN. Ad informarlo dell'avvenuto pagamento è stata infine la banca Vera che ha inviato un sms al pensionato nisseno dove confermava l'avvenuto bonifico di 3600 euro. Immediata la chiamata al numero verde della banca da parte dell'uomo che ha subito capito di essere caduto vittima della truffa online. La banca ha subito bloccato il conto e il pensionato nisseno ha denunciato il fatto alla polizia. Un fenomeno assai diffuso quello del phishing, una tecnica fraudolenta di ingegneria sociale che cattura le informazioni personali degli utenti, quali dati anagrafici, user, id e password per i conti correnti online o codice di carte di credito per prelevare somme di denaro. Una modalità che si manifesta sotto forma di email a catena vale a dire con un elevato numero di destinatari sconosciuti autori di messaggi scritti per influenzare la psicologia del destinatario il quale ricevendo comunicazioni che all'apparenza sembrerebbero provenire da enti, istituzioni o società reali viene indotto a collegarsi a pagine web o siti non autentici ma del tutto simili a quelli legittimi. E' per questo motivo infatti che il destinatario è sollecitato a inserire i suoi dati personali e quindi a cadere vittima della truffa. Sono aree riservate, link costruiti ad hoc dal phisher, che consentono a quest'ultimo di captare le chiavi d'accesso bancarie del malcapitato a cui prosciugherà il conto.